Il 16 marzo del 1978 fu rapito Aldo Moro e trucidata la sua scorta. Cercheremo oggi di ricordare quei 55 giorni, cercheremo di capire che cosa ha avuto a che fare con il rapimento di Moro e la sua fine, l'anello, una struttura segreta clandestina. Cercheremo di capire chi fu il misterioso intermediario che portò avanti le trattative volute dal Vaticano e da Paolo VI in persona. Cercheremo anche di capire cosa c'era, che cosa avvenne in via Gradoli.